Dopo la piazza, il muretto del castello inferiore, l'area davanti alla biblioteca dureranno per altri due giorni e fino a venerdì i lavori di pulizia dei portici e dei marciapiedi affidati dall'amministrazione di Marostica a una ditta specializzata, un'operazione condotta da un team di esperti che in città ha già operato nel 2018 e durante la pandemia con l'obiettivo di preservare la bellezza architettonica e di garantire che questi spazi rimangano piacevoli e accoglienti per residenti e turisti. I lavori stanno procedendo da programma con l'impiego di macchinari che utilizzano oggetti d'acqua ad alta pressione e prodotti ecocompatibili, delicati, su marmi e muratura.